Il mondo si fa sempre più piccolo e anche sotto le due torri si festeggia da qualche anno il Cristo Moreno, è chiamata così l'effigie di un crocifisso molto venerato dai peruviani. Questi scatti di Mario Rebeschini documentano la celebrazione in onore del Signor de los Milagros che si è tenuta domenica nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano, seguita dalla processione con la venerata immagine del Redentore.